ciao a tutti e benvenuti sullele king tv e buona domenica a tutti quanti ragazzi come al solito ci saranno i saluti domenicali quindi mi raccomando lasciate subito immediatamente un bel like e scrivete sotto nei commenti se volete essere salutati anche la prossima settimana specificando se volete una figurina di una squadra via dicendo altrimenti anche nessuna squadra poi vi saluterò comunque sia ugualmente ok ragazzi adesso andremo a spacchettare queste cinque bustine più tardi uscirà anche il video del aggiornamento del firme del campionato quindi non perdetevi il prossimo video che uscirà a breve oggi pomeriggio e iniziamo a fare questo spacchettamento e poi faremo i saluti al termine del video quindi restate collegati fino alla fine per non perdervi i saluti chi mi segue anche su instagram già visto le foto ieri di questa di questa sport week con la bustina quindi mi raccomando seguitemi anche lì allora iniziamo subito con la prima bustina e vediamo cosa esce fuori milenkovic difensore della fiorentina giocatore serbo scrignar dell'inter è un po rovinata sta figura vedete sopra al ciglio c'è una specie di piega vabbè poi abbiamo ratu secondo portiere dell'inter l'anno scorso al genova la copertina dell'album 1989 90 e 2019 2020 un'altra copertina ancora con 1983 86 e 2015 2016 questo è il contenuto della prima bustina facciamo così dividiamo proprio i contenuti della bustina delle bustine ragazzi così vediamo anche qual è stata la migliore bustina in questo spacchettamento troviamo tre giocatori del venezia tra cui klinicoi taguretau e vacca poi troviamo la formazione dell'udinese eccola tre giocatori del lecce tra cui gabriel vigorito e lucioni o mkhitaryan della roma giocatore armeno della roma purtroppo ieri abbiamo perso 2 a 0 contro la juventus devo dire la prestazione a differenza di altre volte è stata una buona prestazione quella della roma però abbiamo perso per 2 a 0 e hanno fatto il figo pronostico che diceva 2 a 1 per la roma purtroppo non è uscito questo questo figo pronostico e la roma ha perso 2 a 0 a torino contro la juventus che sicuramente era il risultato più ovvio come avevo detto anche durante lo spacchettamento qualcuno di voi torno sull'argomento perché qualcuno di voi ha detto che io praticamente in qualche modo ho barato nel figo pronostico ragazzi su quel video non ci sono tagli ma poi ma che importa barare su un figo pronostico cioè quello che esce esce non è che magari fosse fosse vero quello che esce ogni volta questo quest'ora sarei milionario augello della samp andiamo avanti ho un altro della roma ragazzi che poi la roma è una delle squadre con cui ho meno giocatori smalling meno giocatori sull'album parlo ecco qui smalling anche della roma bene poi abbiamo mazzitelli davidis e masucci del pisa ronaldo maran del genoa che adesso è stato sostituito federico chiesa della juventus anche della juventus ho pochissime figurine e perisic dell'inter ok ragazzi stiamo trovando un po di tutto a devo dire sono soddisfatto fino adesso questo spacchettamento cioè anche difficile scegliere qual è la migliore bustina fra le fra le tre per adesso allora andiamo avanti con un'altra bustina è la quarta abbiamo tre giocatori del peschiara tre giocatori del cosenza tre giocatori del venezia un'altra copertina qui abbiamo la 63 64 1993 94 e sottile del cagliari ultima bustina ragazzi ultima bustina di questo spacchettamento tre giocatori della cremonese tre giocatori dell'empoli zappa del cagliari etemai del benevento e ancora benevento con caldirola ok ragazzi iniziamo con i saluti con il milan mi avete chiesto di saluti con il milan del milano abbiamo trovato nessuna figurina no non c'è niente del milan praticamente qui no abbiamo trovato tante figurine del milano va bene comunque salutiamo vito filadelfia tsc rosso nera vita che non avevo dubbi che era del tifoso del milan e guarini antonio poi con nella roma e qui abbiamo trovato ben due giocatori smalling e mkhitaryan eccoli qua e andiamo a salutare cristian latta e francesco ceccarelli con il cagliari e abbiamo sia sottile che zappa per il cagliari e andiamo a salutare david bocchino 77 il marocchino di nonna isa con il napoli in napoli abbiamo trovato nessuna figurina se non sbaglio no non abbiamo nessuno del napoli comunque andiamo a salutare giovanni del villano nicolò andreozzi pietro cirillo felice graziano vincenzo rea e fernando russo con la juventus e abbiamo qui il buon federico chiesa eccolo andiamo a salutare lucia isam rarad e vamp rizzo con la lazio che non abbiamo trovato nessuna figurina della lazio andiamo a salutare gabriele pio con il torino e del torino anche non abbiamo nessuna figurina andiamo a salutare ciao sono bea ciao bea con l'inter dell'inter abbiamo qui l'imbarazzo della scelta che abbiamo ben tre giocatori dell'inter abbiamo rado perisic e scrignar andiamo a salutare luca benedini con lo spezia e dello spezia non uscita nessuna figurina arim salia l'ella severona uscita nessuna figurina andiamo a salutare leonardo chiesini con l'atalanta che ugualmente non uscita nessuna figurina questa volta dell'atalanta andiamo a salutare calamaro channel con la sernitana anche qui la sernitana non è uscita questa volta di solito esce sempre la sernitana andiamo a salutare marco baldi con le copertine e qui le copertine ce ne abbiamo ce ne abbiamo ben tre andiamo a salutare raffaele passante che è abbonato al canale ragazzi poi abbiamo con il benevento e anche qui con il benevento abbiamo i temai e caldirola gabbiele boccuni senza squadra quindi prendiamo una figurina a caso con cui non abbiamo salutato nessuno e prendiamo milenkovich milenkovich e andiamo a salutare rts fede aldo youtube e maurizio opes ok ragazzi per questo spacchettamento con i saluti e tutto devo dire che è stato uno spacchettamento abbastanza soddisfacente perché alla fine abbiamo trovato delle figurine che ci mancavano sicuro proprio sicuro sicuro tra cui queste tre dell'inter paremmo mancano tutte e tre forse perisiccio della roma anche federico chiesa mi manca quindi stiamo andando bene con raccolta con questo spacchettamento forse le copertine forse le copertine ce l'ho tutte quante forse le copertine ce l'ho tutte quante quindi saremo a vedere nel prossimo ce l'ho me manca che sarà il prossimo video quindi non perdetevi il prossimo video perché nel prossimo video andremo proprio a specificare quello che riusciamo attaccare sul sull'album quindi ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti